Mal tempo, fiumi in piena, mareggiate e allagamenti. Urbino imbiancata dalla neve, in montagna si torna a sciare. Cagli, giovane camionista, muore in un incidente stradale. Pesaro lancia la casa delle tecnologie emergenti. No al biodigestore, i cittadini di Vallefoglia chiedono chiarezza. Cagli, giovane camionista, muore in un incidente stradale. Cine News, il telegiornale della provincia di Pesaro. Oggi è lunedì 23 gennaio e apriamo questa edizione parlando di maltempo. Da qualche ora infatti si è allentata la morsa del maltempo sul nostro territorio, dopo quattro giorni con diversi disagi, dalle mareggiate agli allagamenti, dalle piante divelte fino all'allerta fiumi. Il tutto in questo primo servizio. Pioggia, neve e vento. Alberi divelti, fiumi in piena, locali allagati, torrenti esondati, cime imbiancate e mareggiate che hanno eroso la costa e danneggiato concessioni balneari. Questa la panoramica di quattro giorni all'insegna di maltempo persistente, con le prime precipitazioni nevose arrivate nell'entroterra e nelle aree montane, con la costa battuta invece da pioggia che è durata praticamente da quattro giorni, anche in questa mattina del 23 gennaio a Pesaro si è presa una tregua in linea con quella che era un'allerta meteo che prevedeva allerta arancione fino alle 14 odierne. In particolare in questo momento ci troviamo in prossimità della foce del fiume Foglia, fiume particolarmente attenzionato in questi giorni, fiume che si è ingrossato andando oltre gli argini abituali ma che non è esondato, però rimane comunque alta l'allerta. Corsi d'acqua in piena come il torrente Genica notariamente a secco, come vi mostriamo in queste immagini invece in prossimità della foce, completamente pieno di acqua appunto nella zona di Viale Trieste. Lo stesso di Casi per il Mare, grande protagonista per quello che riguarda le mareggiate di questi giorni, mare in burrasca, specialmente su Fano dove i bagni Carlo sono stati particolarmente danneggiati, e ce ne eravamo occupati tempo fa della necessità della richiesta di una scogliera sulla passeggiata dell'Elisippo. Ad esempio dai bagni Carlo parlano di catastrofe annunciata in mancanza della scogliera che ha danneggiato anche lo stabilimento di questa zona, così come il centro di biologia marina e il capannone dei vongolari. Mare che non ha risparmiato nemmeno le spiagge di Pesaro. Qua vedete l'arenile di Baia Flaminia divorato dalla furia dell'acqua, così come sul litorale opposto il comune ha dovuto decidere di chiudere la pista ciclabile in zona sottomonte resa impercorribile da fango e arbusti. Città di Pesaro dove all'ora di pranzo si è riunita la sala operativa integrata che ha fatto il punto di una situazione giudicata in miglioramento dallo stesso sindaco Matteo Ricci. La situazione sta migliorando per fortuna, gli eventi meteorologici molto intensi stanno calando, il livello del fiume è un livello alto, abbiamo dei problemi intorno all'area del casello autostradale, quindi alcune aziende hanno deciso in maniera precauzionale di chiudere e si sta intervenendo. Enzo Belloni insieme alla protezione civile da ieri sta facendo un lavoro straordinario, così come i vigili del fuoco e tutti gli altri, quindi situazione ancora critica però sotto controllo, la diga di Mercatale sta ricevendo molta acqua e quindi fa salvaguardia tutto l'albero del fiume Foglia, però sono usciti diversi fossi e abbiamo avuto diverse difficoltà su tutto l'albero fluviale. Speriamo che le cose continuino così, l'altro problema è il mare perché in questi giorni e in queste ore il mare è molto grosso, abbiamo avuto onde fino a tre metri e questo ha ridotto la capacità di ricezione delle acque fluviali e ci sta creando dei problemi lungo la ciclabile sottomonte, quindi la situazione è continuamente monitorata, però il peggio sembra passato. Peggio che sembra passato ma i disagi abbondano, dalle centinaia di interventi di rimozione di rami alberi caduti fino agli allagamenti. In queste immagini vi mostriamo marciapiede e cortile della scuola Rodari completamente allagati, così come risalendo le colline verso Carignano risultava inondato anche l'esterno del locale atipico Ciavarini. A Borgo Santa Maria invece il vento ha divelto la tensa struttura che copre la pista da Hokei. Fuori da Pesero diverse rotture degli argini fluviali. Il Foglia ha avuto straripamenti poi rientrati fra Montecchio e Montelabate, così come il torrente Absa e il Fosso Taccone. Fra Mombarocce e Villabetti il torrente Arzilla ha invece invaso le strade, così come il Tavollo ha creato criticità da Tavuglia a Gabicce Mare. Una Gabicce dove il Tavollo si è alzato a livello d'allerta e la Protezione Civile ha pattugliato i ponti per monitorare le eventualità di chiusure preventive. Uscendo dai confini della provincia di Pesero Urbino, allerta massima a Senigallia per il livello del Misa riabbassatosi poi nel primo pomeriggio. A Cantiano invece disagi contenuti con le precipitazioni, questa volta materializzatesi sotto forma di neve molto bagnata. Disagi ai quali si aggiungono pure le fake news che hanno attorniato la presunta apertura della diga di Mercatale, smentita dallo stesso Consorzio di Bonifica delle Marche e dall'assessore comunale di Pesero Enzo Belloni. La diga ha grande capienza ancora, quindi nessun pericolo di apertura della diga. Quindi eviterei di utilizzare Facebook per allarmare la popolazione. Spesso questo fa più male del maltempo. E nelle nostre montagne in questi ultimi giorni è arrivata la neve dando ufficialmente il via alla stagione scistica. 20-30 centimetri di neve urbino, 80 sul Catria. Dopo un 2022 da caldo record la Coltre Bianca torna a ricoprire l'entroterra. Atmosfera sempre suggestiva sotto i torricini di Urbino, dove oggi sono state chiuse le scuole a livello preventivo dopo le precipitazioni nevose di ieri. Scuole che verranno regolarmente riaperte nella giornata di martedì. Salendo di quota c'è stato il primo weekend di assalto alla montagna. In tanti hanno affollato il Monte Carpegna e il Monte Nerone, dove le forti precipitazioni e la nebbia hanno però limitato l'apertura degli impianti di risalita in preparazione alle piste. Si è invece pure sciato sul Monte Catria con piste e impianti regolarmente aperti. Nonostante che la neve non era tantissima, noi siamo riusciti ad aprire le piste già nella giornata di sabato. E sabato e domenica abbiamo avuto una grandissima affurenza. Direi che ieri, visto che eravamo anche l'unica montagna aperta della provincia di Pesolo, siamo stati presi quasi da salto. Nonostante la nevicata e nonostante che la visibilità non era ottimale. Però la gente è salita uguale per divertirsi perché c'è tanta voglia di neve nella nostra provincia e anche nella nostra regione direi. Neve che in questo lunedì è ulteriormente aumentata favorendo le condizioni ottimali per i prossimi giorni. Finalmente è arrivata la vera neve perché i giorni scorsi ha fatto delle prove ma di fatto erano caduti 40-50 cm. Stanotte invece sono caduti 80 cm di neve, quella bella che è importante per aprire gli impianti. E quindi noi siamo già al lavoro per battere le piste, per rendere tutto fruibile al fine settimana. Non risultano problemi di viabilità per raggiungere la montagna. Le strade sono già state da ieri liberate tutte. Questa notte che anche a valle sono caduti quasi 40-50 cm di neve ma sono al lavoro i mezzi spalaneve quindi le strade sono già state liberate dalla prima mattinata. Quindi non ci sono problemi perché il servizio di gombero neve funziona ottimamente direi. Neve ma anche ghiaccio sulle strade, condizioni che sono state fatali al 22enne albanese Petrit Yashari morto in un terribile incidente stradale alle 7.30 di ieri sulla strada Flaminia all'altezza di Cagli. Il giovane autotrasportatore era al volante di un camion frigo con il quale aveva appena consegnato la merce a un supermercato e stava rincasando in Umbria. Sull'asfalto viscido ha però perso il controllo del mezzo sfondando un guardrail per poi precipitare per una ventina di metri sul grato del fiume Burano. È morto sul colpo e per recuperare il corpo i vigili del fuoco si sono dovuti avvalere anche della squadra speciale Spelio Fluviale. Ed ora cambiamo argomento. La strada per Pesaro capitale della cultura 2024 si arricchisce di un salto in avanti innovativo con la vittoria di un bando che consentirà la creazione della casa delle tecnologie emergenti. Allora vediamo di cosa si tratta in questo prossimo servizio. Casa delle tecnologie emergenti non vuol dire fisicamente una casa ma vuol dire che tutto il territorio diventerà la casa in cui sperimentare tecnologie emergenti. Quali sono queste tecnologie? Quelle di cui tutti un po' sentiamo parlare cioè blockchain, intelligenza artificiale, 5G e via dicendo che dette così sono delle sigle un po' prive di significato ma che in realtà si riempiranno di significato non vedendo le tecnologie ma vedendo la loro applicazione. E l'applicazione sarà su tre assi che sono già caratterizzanti il territorio cioè la cultura, il turismo e la partecipazione attiva di tutte le parti interessate a partire dalla popolazione e dai turisti. Perché noi abbiamo già individuato diversi casi d'uso sui quali ci concentreremo e che adesso verranno mostrati ma questi casi d'uso vanno declinati in modo tale che rispondano ad esigenze specifiche e queste esigenze verranno proprio mappate con la partecipazione di tutti nei primi mesi del progetto. Dopodiché tutti i cittadini ma non solo anche le aziende, le associazioni di categoria, gli esercenti saranno coinvolti per creare a Pesaro il terreno di sperimentazione perché la sperimentazione si fa con le persone, non si fa con le tecnologie che stanno da sole dentro una teca. Oggi viene presentato un progetto importante a livello tecnologico per il Comune di Pesaro come è stato raggiunto e come è stato reso possibile? È stato un lavoro di squadra dove sono stati coinvolti in modo anche veloce tutte le aziende del territorio e anche le università, l'Università di Ancona e di Urbino che già al Comune di Pesaro da tre anni ha iniziato un lavoro sinergico per potenziare su Pesaro l'università come già conoscete. Siamo molto soddisfatti del lavoro che è stato realizzato e anche dei 35 progetti che erano stati presentati al Ministero, essere tra i primi cinque è una grande soddisfazione. Sono 11 milioni di euro che dovranno essere fatti progetti, dovranno fare laboratori di ricerca e tutti i partner che hanno partecipato ci sarà un contenitore. Dobbiamo essere bravi a coinvolgere, a far partecipare i cittadini, soprattutto io punterei sui giovani che sulla tecnologia sono sicuramente più avanzati e quello che è importante è coinvolgere le imprese del nostro territorio. Inizieremo con una serie di eventi, convegni e poi ci saranno anche dei corsi di formazione perché sarà anche un supporto per le imprese per andare verso la tecnologia e l'innovazione. Le tre assi che noi principalmente andremo a dedicare saranno sul turismo e sulla cultura. Sappiamo bene ad esempio che ci sono tanti turisti che prima di partire dalla propria destinazione per raggiungere la vacanza turistica ad esempio vanno su Google a digitare qual è il piatto tipico quindi dobbiamo cercare di lavorare anche per andare a facilitare i turisti che vogliono venire nella nostra città ma soprattutto anche il controllo dei flussi per migliorare la viabilità. Tutto questo è stato anche possibile perché nella nostra città abbiamo il 5G se non avessimo avuto le antenne 5G questo progetto non potevamo partecipare. Le avverse condizioni del meteo hanno portato a rinviare il confronto fra i 50 sindaci della provincia inizialmente previsto per domani nella prefettura di Pesaro in occasione del lancio di Pesaro capitale della cultura. È invece confermato l'incontro di domani alle 14.30 al teatro sperimentale momento in cui assieme al comitato organizzatore di Pesaro 2024 si riuniranno associazioni del turismo, dell'imprenditoria e della stessa cultura. Ed ora andiamo a Vallefoglia e vediamo l'inaugurazione che si è tenuta sabato del nuovo municipio. Una nuova casa per il comune di Vallefoglia, oggi inaugurato un progetto che va avanti da diverso tempo ma oggi finalmente si concretizza. Non ci credeva nessuno che noi riuscivamo ad inaugurare in pieno inverno la casa dei cittadini perché è una bella struttura in un unico posto per servire meglio la comunità ai cittadini. Veramente è una cosa straordinaria predisposta in due anni, predisposta anche per un eventuale ampliamento quella parte a terrazzo così come la scuola Federico da Montefeltro, così come la casa della salute sono predisposti anche per crescere perché questo è un territorio in crescita e siamo un po' dispiaciuti perché c'era tanta gente che non poteva entrare ma del resto di fronte alle previsioni del tempo della neve e della pioggia abbiamo preferito la palestra Nazareno Guidi che è un ex sindaco e veramente tutte le autorità, tutti i cittadini, tutta la comunità che ha potuto vedere che dopo tante altre inaugurazioni come possono vedere anche nelle slide diciamo la casa dei cittadini cioè il nuovo comune di Vallefoglia in via Rampi 4 è l'opera più imponente in questi 50 anni e non hanno più bisogno di andare in 4-5 posti vengono qui e trovano tutte le risposte, vanno nella casa della salute a fianco qui vicino ci sono tutti i servizi qui e il cuore pulsante del centro della vallata da Pesaro a Belfort a Lisauro è importante, inaugureremo a breve il nuovo depuratore che dopo quello di borgheria è l'opera igienico e sanitaria ambientale più significativa di questi ultimi 50 anni come il comune e poi la terza opera sarà l'inaugurazione del teatro Giovanni Santi a bottega di Vallefoglia, 336 posti dopodiché insomma chiudiamo 10 anni di governo a Vallefoglia dopo aver fatto quasi tutto diciamo il comune è importante, è anche più funzionale il sindaco è in H24, tutti i funzionari sono tutti lì quindi non li devo andare a cercare quindi rendono anche di più e sono più al servizio dei cittadini ho ringraziato anche gli ex carabinieri che nell'ingresso del comune ci fanno un servizio di volontariato quindi veramente un'opera straordinaria e come vedete la mia felicità credo che sia nonostante la fatica di questi 4-5 mesi 15 ore al giorno per vedere se sarà tutto a posto perché qui abbiamo fatto la piazza, tutti i parcheggi tutta la segnaletica nuova abbiamo fatto di tutto e di più e l'inaugurazione del nuovo comune di Vallefoglia è stata accompagnata anche dal fuori programma dei tanti cittadini che continuano a esternare la loro preoccupazione e contrarietà alla realizzazione del biodigestore Sindaco, se è contrario non lo dica ai giornali faccia atti ufficiali parole espresse su cartelloni come questo che hanno accolto l'inaugurazione del nuovo comune di Vallefoglia sabato mattina e a mostrarle in bella vista a tutte le autorità presenti per l'occasione c'erano alcuni dei 5.000 passa firmatari contrari alla realizzazione del biodigestore di Talacchio sotto l'occhio del ciclone sono finite le parole pronunciate dal sindaco di Vallefoglia che neanche una settimana fa ha annunciato attraverso un comunicato la contrarietà alla costruzione dell'impianto da 105.000 tonnellate di rifiuti un no arrivato a due anni di distanza dall'individuazione del terreno agricolo di Talacchio in grado di sostenere l'estensione della struttura di circa 40.000 metri quadri noi prendiamo atto che dopo due anni di silenzio il sindaco e la giunta abbiano espresso contrarietà lo hanno fatto semplicemente con un comunicato stampa e una lettera mentre noi ci aspettiamo degli atti ufficiali che vengano presentati all'interno del procedimento perché all'interno del procedimento in realtà Vallefoglia il sindaco non ha mai presentato alcuna documentazione di contrarietà essendo autorità sanitaria potreva invece sollevare le questioni sulla salute pubblica così come sugli aspetti urbanistici e su quelli ambientali in questo comunicato il sindaco poneva l'attenzione sulla convenienza economica non è questo l'aspetto per noi rilevante ed importante era chiaro che era un affare ed era chiaro che venisse fatto per quello mentre noi da due anni diciamo che ci sono dei forti rischi rischi potenziali per la salute degli abitanti per il territorio e per l'ambiente queste sono le ragioni per le quali noi continuiamo ad essere contrari e soprattutto ci aspettiamo da parte di chi ci amministra che non faccia valutazioni economiche ma faccia valutazioni per la tutela del territorio e della salute dei cittadini il sindaco dice di non aver mai detto di essere a favore è vero, non l'ha mai detto, ha fatto di più ha fatto insieme alla sua giunta una serie di azioni per facilitare la realizzazione dell'opera attraverso varianti urbanistiche attraverso la variante sulle case rurali sparse attraverso il fatto che è scomparsa una norma tecnica di attuazione che avrebbe impedito la realizzazione di un'industria insalubre di prima classe quindi non è necessario manifestare la propria volontà a volte e spesso i fatti contano molto di più TV Roli ha già dichiarato agli organi di stampa che entro il mese di gennaio otterrà l'autorizzazione quindi nella prossima conferenza dei servizi che dovrebbe essere quella conclusiva lui pensa di ottenere questa autorizzazione quindi un esito favorevole al termine della conferenza noi chiediamo che l'opposizione che oggi il sindaco dice di manifestare o comunque ha dichiarato di essere contrario venga portata all'interno della conferenza dei servizi è lì che deve essere fatta opposizione è lì che si può fare opposizione è lì che si deve impedire che venga realizzato il digestore Voi continuarete a manifestare la vostra contrarietà in che modo? Noi continueremo a manifestare la contrarietà informando i cittadini continueremo a vigilare su tutto quello che avviene sull'operato del sindaco che oggi ha dichiarato la sua contrarietà perché noi riteniamo quest'opera un'opera che non serve per la gestione dei rifiuti sovradimensionata e potenzialmente pericolosa per i cittadini, per la salute e per l'ambiente Un'azienda di Tavuglia ha realizzato la prima caldaia a idrogeno d'Europa si tratta della Idorgen impresa associata alla CNA Pesar Urbino che attraverso le proprie tecnologie brevettate di ultima generazione produce un sistema di riscaldamento a idrogeno verde alimentato da pannelli solari impiegando consumi energetici a zero emissioni un progetto avveniristico che dallo scorso venerdì alimenta la scuola Meucci di Carpi in cui è stata installata Nonostante il maltempo di ieri si è comunque tenuta a Pesaro la tradizionale benedizione degli animali in occasione della festa di Sant'Antonio Abate organizzata dal gruppo pesarese delle Giacche Verdi per la 32esima edizione in corteo dal parco Miralfiore a Piazza del Popolo si sono presentati ben 32 cavalli con i cavalieri capeggiati dalla presenza del reparto della Polizia di Stato di Firenze assieme ai cavalli alcuni cani un gatto e un coniglio che hanno ricevuto la benedizione di padre Aldo sotto il loggiato del comune Ed ora passiamo allo sport dedicando la copertina di questo lunedì alla strepitosa vittoria del 31enne Giordano Cardellini che ieri a Faenza si è laureato campione italiano assoluto di tiro con l'arco per non vedenti al 36esimo campionato italiano para arcere indoor Cardellini ha ottenuto la medaglia d'oro negli scontri finali con titolo assoluto nella categoria dei ciechi totali Cardellini perse la vista in seguito ad un incidente in Motorino e ieri ha conquistato la sua seconda affermazione a livello nazionale dopo il tricolore conquistato a Palermo nel 2019 Orgoglio dall'Unione Ciechi e Povedenti Pesaro Urbino che ha applaudito l'esempio sportivo di tenacia e abnegazione di Giordano E concludiamo questa pagina sportiva andando a vedere come è andato lo sport locale in questo fine settimana vittorie preziose per VL, Italservice e Pesaro Rugby la VIS invece viene fermata dal diluvio La VL continua nel suo splendido mese di gennaio inaugurando il girone di ritorno così come aveva chiuso l'andata vincendo 76-73 il punteggio finale con cui la Carpegna Prosciutto Basket regola una coriacea Tezenis Verona avversario in crescita che costringe i pesaresi ad una partita di fatica e pazienza ma anche di tenacia e maturità quella che viene decisa nei minuti finali dopo che gli scaligeri avevano dato il loro meglio in un terzo quarto chiuso sul 51-59 nell'ultimo periodo trascinata da un cita ma referto con 18 punti e dai canesti decisivi di Moretti e Abdurrakam che riemergono dopo una prova opaca la VL ha ragione di un finale punto a punto che le regala la decima vittoria stagionale applausi per la VL, applausi per un tifoso speciale come il campione del mondo di MotoGP Pecco Bagnaia omaggiato alla Vitri Frigo Arena con una maglia dal numero 63 dorato consegnata da Coste Magnifico nel calcio invece tra Vispesoro e Pontedera ha vinto la pioggia le precipitazioni persistenti hanno reso impraticabile il prato del Benelli che già di suo non ha mai brillato per drenaggio l'arbitro Ubaldi di Roma ha fatto due sopralluoghi sul terreno con i capitani delle squadre si è preso mezz'ora per decidere e poi ha ufficializzato il rinvio per una vische che tornerà in campo direttamente sabato nel derby di Ancona si è giocato invece pochi chilometri più a sud a Fano dove l'Alma ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva battendo 2-0 il Tolentino grazie alle reti di Broso e Severini nel secondo tempo nel calcio 5 vittoria doveva essere e vittoria è stata per l'Ital Service che in Sicilia si è imposta con un rotondo 6-0 in casa del fanalino di Coda Melilli per la squadra di Colini una rigenerante boccata ad ossigeno in classifica in un match condotto da autorità da un primo tempo chiuso sullo 0-2 grazie ai gol di Dalcine e De Oliveira fino al dilagare di una ripresa arrotandata da Tony Dandel da De Oliveira che gonfia il suo score personale a tripletta e dalla sesta rete di Chitola vittoria fondamentale per l'Ital Service ancor più perché in vista di un doppio appuntamento con la L84 di Torino entrambe le volte al Palafiera di Pesero mercoledì alle 19 c'è la gara secca degli ottavi di Coppa Italia domenica 29 alle 17.30 di nuovo sfida ai piemontesi in campionato dopo la lunga pausa invernale la Fiorini Peso Reggae è tornata al Toti Patrignani e sotto pioggia e fango dell'impianto di Muraglia ha trovato una vittoria gratificante per 25 a 14 contro il Civitavecchia Centuncelle a Treviso dura invece un set il sogno della Megabox Vallefoglia nella pallavolo che contro la corazzata Prosecco Doc Conegliano parte fortissimo imponendosi con un 25 a 27 ma poi la forza delle Pantere viene fuori dal secondo al quarto set per il 3 a 1 finale Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale questa sera però in prima serata non perdetevi una nuova puntata di Check Up Obiettivo Salute questa sera ci sarà con noi il dottor Antonio Padolino che è medico ortopedico e ci parlerà dell'artrosi della spalla e poi alle 22 quindi circa subito dopo la puntata potete vedere la partita Pesaro Reggae contro Civitavecchia Reggae e domani mattina torna la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini vi aspetto quindi domani alle 7.20 in diretta sul canale 80 sulla nostra pagina Facebook e anche sulla nostra applicazione grazie per essere stati con noi buon proseguimento su Rossini TV Grazie